Quando mi è stato chiesto di pensare ad una location per fare lo shooting fotografico della iB Living, non ho avuto dubbio. Ho chiamato il mio amico Lucio Passarelli qui ad Altamura e gli ho chiesto di darci ospitalità per poter fotografare e poter riprendere i prodotti disegnati e realizzati da Alessio Bernardini nella quella che io considero la più bella location d'Italia, una delle più belle location d'Italia all'interno della quale si esprimono gli arredi, gli elementi di arredo, l'arredamento, il bello, il gusto, l'eleganza e ho chiesto a Lucio e di conseguenza a Lucio e alla sua equip di ospitarci. Grazie per l'ospitalità Lucio. Grazie a te innanzitutto per averci scelto perché essere scelti da una persona di uno spessore così importante come tu o almeno nel settore della regola e non solo penso, siamo amici a molti anni, siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto passi importanti insieme, abbiamo fatto cose eccezionali insieme. Essere scelti dico da una persona come te sicuramente ci lusinga, ci come devo dirti certifica il percorso di una vita che è stata dedicata interamente al bello, quindi alla interpretazione dell'arredamento in un modo un po' se vogliamo un po' trasversale, un po' il solito e ci siamo preoccupati di ambientare situazioni ma soprattutto di dare la sensazione che entrando in uno showroom non si avesse l'idea di entrare in uno showroom ma di entrare in un'abitazione, quello è quello che noi facciamo da tanti anni, abbiamo fatto sperimentazione da forse 40 anni a questa parte, 35 anni sicuro, sempre con lo stesso appello, la stessa filosofia che ha contraddistinto tutti questi anni di emancipazione e di crescita. Non so se siamo riusciti però se tu c'hai scelto vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Ma per questo io ho praticamente, ti ho definito e per me non potrebbe essere diversamente una luxury style performer perché a guardare quello che esiste nel nostro panorama ancora oggi benché ormai da tempo io conosco il mondo del design passando attraverso tutta una serie di aziende rappresentate, proposte, l'arrivare ancora oggi a considerare questa location, te e la tua equip come coloro che meglio esprimono e che sanno interpretare l'eleganza, il gusto, la bellezza e la possibilità di poter rendere tutto ciò fruibile per un cliente che entra qui e vede praticamente cosa significa casa, si respira casa, ambiente di casa. Per cui quando ad Alessio Bernardini gli ho chiesto di venire giù da noi e di venire a vedere questa location, egli stesso ha avuto un modo di constatare che avevo ragione e di conseguenza ci siamo intesi nel fare una bella presentazione di quello che sono i suoi prodotti che sono oggetto tra l'altro di una comunicazione web online ADS che ci vedrà e che ci vedrà protagonisti nell'immediato nel prossimo futuro. Che ne dici se andiamo a guardare qualcuno di questi prodotti che sono stati ambientati qui da te? Certo, muoviamoci e andiamo a vedere, perché sono molto interessanti.